Voce, sta voce mormoriata, sta voce appassionata Grande entusiasmo per il concerto di Peppe Barra che ha chiuso sabato la dodicesima edizione di Botteghe d'Autore a Correto Manforte. Possiamo dirci davvero soddisfatti per questa dodicesima edizione, ha dichiarato il direttore artistico di Botteghe d'Autore Ivan Rufo. Da circa due anni stiamo attraversando i borghi del Cilento e degli Alburni per mettere insieme la straordinarietà dei nostri scenari con gli artisti della nostra tradizione. Io già sono stato qui anni fa e quello che ho lasciato allora spero di lasciarlo anche adesso. Cioè il mio modo di giocare, di scherzare, di divertirmi col pubblico e nello stesso tempo di comunicare questa bella e grande cultura per Tenopea. Botteghe d'Autore è un progetto che cerca di portare artisti eccelsi inserendoli in cornici che davvero meritano di essere rilanciate, di essere messe in luce. Qual è il pensiero di Peppe Barra su Botteghe d'Autore? Ma queste bottighe di autore se ne dovrebbero fare di più in tutta Italia perché l'Italia secondo me è il Parnaso se non del mondo ma dell'Europa sicuramente. È una nazione che ha cultura da vendere e in ogni piccolo centro, in ogni piccolo momento urbano e non urbano, piccoli centri, paesini, cittadine, in ognuna di queste cittadine, di questi paesini, di questi piccoli momenti c'è la cultura. Qui c'è la cultura della natura, la cultura della bellezza, il verde e questo è già tanto. Io arrivando qua l'ho potuto toccare con mano, questi bellissimi paesaggi, questi momenti di verde, questi boschi, queste cazzupole immerse nel verde e mi sono veramente emozionato. Io vorrei s'advanta con un mio silenzio, pa' te fa sentir tutto il tuo respiro, tu e io. Vas a me, pa' questa volta vas a me.